Allora buonasera a tutti e di nuovo sono qui per presentarvi una versione migliorata delle luci stroboscopiche per gli ultraleggeri e per gli aerei in genere. Naturalmente adesso ho migliorato la luminosità delle luci di posizione e il comando rimane sempre quello con posizione di zero oppure posizione di parcheggio che accende le luci, si accende le luci di posizione, quella rossa e quella verde e naturalmente questo serve nei momenti per i quali si è fermi in parcheggio, in riscaldamento o in fondo pista, quando c'è un pelo di nebbia, quando c'è un po' di foschia per essere visti anche da lontano e poi in navigazione c'è la possibilità di commutare anche inserendo le luci flash di navigazione stroboscopiche. I tempi sono stati calcolati sempre in base a quelle che vedo montate sugli altri ultraleggeri, i tempi di lampeggio e di pausa. Quindi per coloro che fossero interessati a installare un tipo di impianto del genere, le dimensioni e tutto il resto ve le posso spedire per posta, mi contattate sempre al solito indirizzo www.romeoromeooscar.com. Grazie e buona serata a tutti.